Mentre pescavo sott'acqua ho fatto un incontro davvero incredibile. Mi trovavo in Salento, a sud di Otranto e più precisamente a Torre Sant'Emiliano. Qui il fondale scende rapidamente a 15 metri e poi a 40. Mentre pescavo ho visto un grosso animale nuotare. Si tratta di una caretta caretta che stava cercando del cibo molto vicino a una scolliera. Sono riuscito a nuotare insieme a lei per ben 5 minuti e poi si è allontanata tranquillamente. Grazie a tutti.